Benvenuti in questa nuova edizione del Tg6 la settimana nella quale andiamo a ricapitolare gli eventi salienti degli ultimi sette giorni nella nostra regione. Giugno e luglio con andamento pre-covid per il turismo in Abruzzo, numeri che hanno segnato un record per quanto riguarda il litorale, situazione un po' diversa nell'entroterra. Gli ultimi dati fanno sperare anche in questo mese di agosto e nel prossimo mese di settembre che siano entrambi molto positivi il servizio. È un turismo per così dire a due velocità quello che sta riguardando la nostra regione con il pienone nelle località costiere e numeri meno positivi per quel che concerne le aree interne come spiega ai nostri microfoni Gianni Tauci della Confessercenti. Sulla costa va tutto a gonfia vele, gli hotel sono pieni, le strutture extra ricettive sono piene, le attività comunque sia commerciali che quelle proprio della ristorazione stanno lavorando benissimo. Sicuramente si nota invece un ritorno al pre-covid nelle zone interne. Questa cosa ci fa preoccupare perché significa che tutto quel momento di positività nelle zone interne non siamo riusciti poi a mantenerlo, quindi azioni regionali per mantenere il turismo interno non ce ne sono state e purtroppo si è visto. Il mare torna a essere invece gettonatissimo? Assolutamente sì, tutti gli hotel sono pieni quindi vediamo una presenza elevata che poi fa il paio col fatto che la gente che va in giro si nota anche la sera, nelle attività, nei concerti, negli eventi che ci sono. Quindi sicuramente una stagione soddisfacente per tutta la fascia marittima, quella della costa. Ma non è finita perché in una stagione estiva che si allunga anche per via dei cambiamenti climatici si prevedono molte presenze in Abruzzo fino a dopo la metà di settembre. Ma noi sappiamo che rimarrà il pieno anche per le prime settimane di settembre, quindi un qualcosa che oramai si sta consolidando nel tempo, cioè quello che è la stagione estiva non è più luglio-agosto ma sta ricominciando a essere giugno-settembre. Questi numeri tauci possono compensare almeno parzialmente i due anni di covid oppure insomma resta ancora la ferita aperta di due anni di attività praticamente chiuse? Purtroppo la ferita è aperta perché economicamente le famiglie spendono di meno, quindi quello che prima si spendeva quando si stava in vacanza oggi si sente che il portafoglio dell'italiano è comunque sofferente. C'è una presenza di stranieri che comunque hanno più possibilità economiche nello spendere, però sicuramente dobbiamo attendere ancora, speriamo ancora poco, però non è sicuramente questa la stagione del pareggio. Sul fronte dell'inchiesta per la sparatoria nella quale ha perso la vita Walter Albi ed è rimasto gravemente ferito Luca Cavallito, gli inquirenti cercano prove dall'analisi degli smartphone rimenuti sul luogo dove è avvenuto il delitto e dei dispositivi trovati a seguito delle perquisizioni. Vediamo. Conferito oggi l'incarico al consulente tecnico della Procura di Pescara, nominato con l'obiettivo di eseguire accertamenti sui telefoni cellulari trovati nell'ambito delle perquisizioni relative all'agguato che si è consumato la sera di lunedì 1 agosto al Bar del Parco di Pescara ai danni di Walter Albi, architetto 66enne morto sul colpo, e di Luca Cavallito, 49enne tuttora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Gli accertamenti tecnici non ripetibili in particolare riguardano 15 dispositivi riconducibili a Cavallito. Il consulente tecnico incaricato dal PM Andrea Di Giovanni, titolare del fascicolo contro i gnoti, dovrà occuparsi di estrarre copia forense del contenuto degli smartphone. Gli inquirenti hanno in mano due telefoni trovati sul luogo dell'agguato, uno recuperato a terra, presumibilmente di Albi, e l'altro recuperato nello zaino di Cavallito. Il killer invece è riuscito a portare via il telefono che il 49enne aveva in mano prima di essere colpito. Al vaglio degli investigatori, anche computer e tablet trovati durante le perquisizioni, tutto porta a pensare che i due, il giorno dell'agguato, stessero aspettando qualcuno, avevano ordinato pizzette in quantità ed erano seduti sullo stesso lato. Fondamentale per gli inquirenti individuare la persona con cui avevano appuntamento. Degli accertamenti è emerso che, prima del fatto, Albi e Cavallito erano insieme da un paio di ore. Le condizioni cliniche del 49enne, tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, sono definite stabili. Il ferito è sorvegliato H24 dalle forze dell'ordine e di fatto il reparto è blindato, soprattutto dopo l'episodio dell'uomo che la scorsa settimana si è presentato in ospedale per chiedere con insistenza informazioni circa lo stato di salute del 49enne. Dopo l'autopsia effettuata venerdì scorso, i familiari di Walter Albi attendono la riconsegna della salma, che non è ancora avvenuta. Nonostante le difficoltà della pandemia, nel 2021 ha mantenuto numeri positivi la raccolta differenziata di carta e cartone in Abruzzo e quanto emerge dal rapporto annuale del Comieco. Nel 2021 l'Abruzzo ha saputo confermare gli ottimi risultati dell'anno precedente circa la raccolta differenziata di carta e cartone. Una sostanziale stabilità, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e ai continui stop e ripartenze nel periodo in questione. Tutto ciò emerge dal ventisettesimo rapporto annuale presentato dal Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. La raccolta in Abruzzo sfiora le 73.000 tonnellate e di queste il Comieco ha gestito direttamente 67.119 tonnellate, pari al 92,3% della raccolta, riconoscendo ai 279 comuni convenzionati dei corrispettivi economici per oltre 5 milioni e mezzo di euro. Le restrizioni e i diversi via libera hanno fatto soffrire le province dell'Aquila, meno 5,2% e di Teramo, meno 2,3%. Nonostante queste contrazioni la raccolta complessiva resta stabile. Provincia di Pescara 17.000 tonnellate di carta e cartone con un procapite di 54,6 kg. Provincia di Chieti oltre 23.000 tonnellate, 61,2 kg per abitante all'anno. La provincia dell'Aquila oltre 15.000 tonnellate, 53,3 kg. Provincia di Teramo 17.000 tonnellate per 56,2 kg per abitante all'anno. Secondo lei per migliorare ancora di più queste comunque ottime percentuali abruzzesi cosa si dovrebbe fare? Sicuramente può essere molto utile una attenta e più diffusa comunicazione verso gli utenti. Credo poi che partendo proprio qui da Teramo e dalle montagne, del Teramano cominciando dal re delle montagne che è il Gran Sasso, potrebbe essere anche molto utile pensare a un'iniziativa specifica sugli escursionisti e quindi anche i turisti, tanti turisti che cominciano ad affollare le vie della montagna. Queste sono delle strade che potrebbero incrementare la raccolta differenziata di qualità. Si avvicinano le elezioni politiche. Nel corso di una conferenza stampa, mercoledì scorso, il coordinatore regionale di Italia Viva, Camilo D'Alessandro, e Gianfranco Giuliante di Futura hanno ufficializzato l'accordo in vista di questo appuntamento, il servizio. Il movimento politico che fa riferimento a Gianfranco Giuliante Futura, alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, correrà in Abruzzo al fianco di Italia Viva. Questa mattina a Pescare è stato sancito l'accordo che ha spiegato il coordinatore regionale del partito di Renzi, Camilo D'Alessandro, guarda al di là di centrodestra e centrosinistra. Quando siamo nati abbiamo dato vita in Abruzzo a patti civici, intendendo per questi l'allargamento della prospettiva di un partito che nasceva proprio per includere e non per escludere. In Abruzzo c'è uno straordinario spazio e il primo patto che noi sigliamo in vista delle elezioni politiche, ma non solo, è non solo un primo tempo, poi andiamo dritti verso la regione, è dare casa al tanto civismo che c'è in Abruzzo, che a volte fa vincere o il centrodestra o il centrosinistra, ma che poi rimane confinato all'interno del comune di appartenenza. Questo mondo aveva bisogno di una casa, vediamo che cosa succede a livello nazionale con l'evoluzione dell'accordo tra Italia Viva e Azione, ma nel frattempo noi facciamo il nostro lavoro qui sui territori perché dal territorio deve nascere una proposta. È chiaro che c'è una domanda, la domanda c'è in Abruzzo e c'è in Italia, la domanda è il terzo polo, un voto dato a noi e un voto che scompaggina gli equilibri di centrodestra centrosinistra che potrebbe essere determinante per non far vincere nell'uno e nell'altro e per far tornare Draghi. Giulianto, reduce dalla presidenza tua, ha rimarcato i motivi dell'apparentamento, ma anche quelli che un anno fa lo hanno portato a lasciare il centrodestra. Quando, sbattendo la porta della Lega e denunciando l'inadeguatezza di una classe dirigente che non riusciva a farsi valere in Abruzzo, ho creato Futura dicendo che avremmo occupato uno spazio altrove rispetto al centrodestra e al centrosinistra. Mi sembra di poter dire che con la costruzione di questo terzo polo questo altrove in questo momento sia stato individuato. Futura si è configurata come una sommatoria di diverse esperienze civiche, di persone che hanno lavorato sul territorio, che affrontano giornalmente problemi e quella scelta di essere altrove rispetto al centro e rispetto al centrosinistra e al centrodestra naturalmente si è concretizzata con la scelta di tutta una serie di amministratori civici. Sono state messe in campo tutte le precauzioni possibili per garantire la sicurezza della viabilità e dell'evento del Jova Beach Party che si svolgerà a Vasto il 19 e 20 di agosto mercoledì scorso. In prefettura Chieti c'è stato un nuovo vertice, il punto della situazione. Ritocchi e precauzioni per la viabilità e per la sicurezza in vista della Jova Beach Party che si svolgerà il 19 e 20 agosto a Vasto. Nel corso del Comitato per l'Ordine e la pubblica sicurezza che si è tenuto questa mattina in prefettura Chieti sono stati definiti i dettagli necessari a garantire una viabilità efficiente e snella con un occhio rivolto alla sicurezza e a tutte le precauzioni necessarie allo svolgimento dell'evento. Ieri intanto la Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo ha dato il via libera per l'allestimento dell'area concerti di fatto un parere positivo in vista del sopralluogo che il 19 agosto verificherà il corretto allestimento dell'area e della zona coinvolta dallo svolgimento del concerto. Sono stati messi a punto tutti gli aspetti che possono garantire la sicurezza via mare, via terra e via aerea. Esattamente, lei ha toccato il punto, noi siamo partiti da prima di tutto le problematiche della sicurezza in senso generale che riguardano principalmente come ha fatto il signor Questore, ha fatto bene a sottolineare l'aspetto principale che è quello del deflusso, deflusso che rappresenterà il momento topico perché mentre l'afflusso avverrà su più ore, il deflusso saranno tutti insieme che devono uscire. Quindi è lì che abbiamo focalizzato l'attenzione per quello riguardo ai sistemi di sicurezza, sistemi di sicurezza che sono stati messi a punto dal piano di sicurezza che ha fatto l'avvocato mercogliando per conto del Comune e poi messi a punto da quello che è il sistema che è il tavolo tecnico del Questore da qui in questi giorni verrà a breve messo a punto l'ordinanza di servizio. Gli sforzi sono stati notevoli, tutti hanno concorso in maniera esemplare, oserei dire. Sarà quindi un concerto in sicurezza? C'è un'ordinanza comunale che verrà adottata sia dal Comune di San Salvo che dal Comune di Vasto ovviamente per divieto di alcolici durante il concerto e soprattutto di bottiglie di vetro. Quindi saranno attenti a evitare che anche nei supermercati, soprattutto lì, possano essere venduti alcolici o diciamo bevande in bottiglie di vetro. Sindaco, ieri un via libera e oggi questo Comitato per la Sicurezza. Vasto si prepara ad accogliere il Jova Beach Party. Un evento straordinario, bello, che rende ancora più grande la nostra città che è la città del benessere per chi ci vive e chi viene in villeggiatura. Un ringraziamento di cuore ma vero senso di gratitudine alle persone straordinarie delle istituzioni della provincia di Chieti, dal Prefetto Sua Eccellenza Armando Forgiona a tutti i comandanti delle Forze dell'Ordine al Direttore Shell. Una provincia che vanta persone straordinarie che riescono quindi a concepire nel massimo spirito di leale collaborazione un concerto meraviglioso. E veniamo ora alla giornata di giovedì quando la Capitaneria di Porto di Ortona nel corso di un incontro con la stampa ha illustrato i risultati dell'attività condotta nei primi sette mesi di questo 2022. La Capitaneria di Porto di Ortona nel corso di un incontro con la stampa ha illustrato questa mattina i risultati dell'attività condotta nell'area di competenza che si estende da Francavilla al mare a Fossa Cesia per oltre 35 chilometri di costa. Pronto intanto il piano per il Ferragosto sicuro. Sistematicamente durante i giorni di maggiore fruizione lungo tutta la costa dei Trabocchi saranno interessate quindi da turisti, balneanti e in generale da tutti coloro che hanno piacere di andare a mare. Faremo in modo che la salvaguarda della vita umana in mare, soprattutto la tutela dell'ambiente e la fruizione stessa di quest'ultimo siano nella migliore condizione per tutti. Nel corso dei controlli operati da gennaio a luglio elevate sanzioni per quasi 100.000 euro come ha spiegato il comandante della Guardia Costiera Ortonese. Il dato che mi preme di sottolineare sono i quasi 100.000 euro di sanzioni amministrative, cioè quindi soprattutto la tutela della filiera della pesca, la tutela dell'ambiente, sono gli obiettivi che stanno più a cuore al cittadino, stanno più a cuore allo Stato e noi ci pregiamo di raggiungerli attraverso il nostro operato. Il senatore del Partito Democratico Luciano D'Alfonso ha presentato i contenuti di un provvedimento a sua firma per la riforma dell'attività di documentazione svolta dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini. Il servizio. Il senatore Luciano D'Alfonso questa mattina ha illustrato in conferenza stampa il contenuto del suo emendamento inserito nello schema del decreto legislativo approvato dal Governo il 4 agosto scorso nell'ambito della legge delega 134 del 20 settembre del 2021 per la riforma della giustizia penale. Il provvedimento riforma l'attività di documentazione svolta nel corso delle indagini dalla Polizia Giudiziaria attraverso le sito, ovvero le sommarie informazioni che le persone informate sui fatti sono tenute a rendere senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere e senza la garanzia della presenza del loro legale di fiducia non essendo iscritte nel registro degli indagati. La novità riguarda infatti che le sommarie informazioni assunte dalla Polizia Giudiziaria potranno essere registrate contro il pericolo di errori, pressioni e abusi. Il prossimo obiettivo, ha spiegato il senatore D'Alfonso, è quello anche della videoregistrazione. Quando abbiamo presentato il progetto di legge a più firme con me, primo firmatario, che obbligava alla videoregistrazione delle assunzioni a sit delle persone informate sui fatti, l'obiettivo era quello che questo contributo di verità che danno le persone informate sui fatti non dovesse essere segnato da paura, da intimorimento, da incertezza. Al di là adesso della buona fede che non viene messa in discussione di chi opera per conto della giustizia. Ma la videoregistrazione, questo chiedevo, oggi diventata fonoregistrazione, diventa un elemento di garanzia della memoria remota affinché non ci siano sorprese nel corso della trasformazione da procedimento in processo. Noi abbiamo raggiunto un risultato, rispetto a quello prefissato siamo all'80%. Continuerò a lavorare affinché contribuire all'accertamento della verità sia davvero una ragione di libertà, una ragione di verità, senza condizionamenti. Oggi questa norma, assunta dal progetto di legge da me presentato, è diventato emendamento del governo che poi è entrato nel decreto attuativo riferito alla riforma del processo penale. Io continuerò a lavorare affinché, per esempio, sia non su richiesta della parte convocata, cioè del cittadino convocato per essere assunto a sit, ma sia un automatismo obbligatorio. E aggiungeremo anche la ripresa video. Per adesso c'è soltanto la ripresa, diciamo, riguardante la voce, l'audio, nell'interezza di questa ripresa. Perché noi vogliamo che la memoria remota sia a garanzia, sia dell'ordinamento, ma anche della persona e del cittadino. Tutto quello che aumenta la libertà è valore. Tutto quello che aumenta la verità nell'accertamento della verità è valore. Torniamo a parlare di elezioni. A 40 giorni dall'appuntamento, anche in Abruzzo, nel centro-destra, il partito dei fratelli d'Italia è pronto a guidare la coalizione di riferimento, ovvero quella di centro-destra. Ascoltiamo le parole del governatore della regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Io non commento le indiscrezioni perché fino a quando i leader dei partiti non pubblicano la distribuzione dei seggi e dei collegi è inutile discutere di indiscrezioni giornalistiche. Io credo che ci sarà comunque un equilibrio generale che deriva dall'equilibrio nazionale che è stato rapidamente trovato dal centro-destra, che ricordo con poche ore di riunione ha stabilito metodo di selezione del Premier, distribuzione generale dei collegi e quindi delle rispettive forze in campo, si stanno lavorando sugli ultimi dettagli, è stato già presentato il programma, insomma quella di centro-destra è l'unica coalizione pronta al voto a governare l'Italia, tutti gli altri non fanno altro che insultarsi l'uno con l'altro, fare patti e romperli e andare alla ricerca di complicate alchimie per mettere insieme soggetti che si sono insultati fino a ieri, quindi nessuno di loro può oggi davvero credibilmente offrire un programma di governo al Paese e credo che il centro-destra raccoglierà i meritati frutti di un lavoro serio fatto in questi anni. Presidente, è indubbio però che anche in Abruzzo queste elezioni per quanto riguarda il centro-destra vedranno Fratelli d'Italia come traino? Fratelli d'Italia sono ormai un anno e più, tutti i sondaggi nazionali lo indicano come partito guida della coalizione, che cosa dire? Adesso è inutile discutere di sondaggi, siamo arrivati, ora si vota, quindi il vero sondaggio è questo e a questo ci appelliamo, è naturale che già in questo momento siamo molto orgogliosi del fatto che un partito nato dieci anni fa, meno di dieci anni fa, al quale pochi pronosticavano anche solo di poter sopravvivere, oggi si propone credibilmente come il partito che può esprimere la leadership della coalizione e la presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona di Giorgia Meloni, per chi questo percorso lo ha costruito in prima persona e per tutti noi che ci abbiamo creduto non può che essere motivo di soddisfazione, è anche la prova che un certo modo di fare politica con serietà, con determinazione, con coraggio nel sostenere le proprie posizioni premia e quello che credo che i cittadini cerchino dalla politica sia esattamente questo, serietà, rigore, preparazione e coraggio nelle scelte. Un ferragosto con il pienone sulle spiagge, queste le previsioni della Sib Abruzzo Confcommercio che fa anche un primo bilancio della stagione estiva. Padovano, siamo a poche ore dal ferragosto, quali sono le previsioni per il weekend più importante della stagione estiva? Le previsioni sono ottime, le prenotazioni siamo al top, quindi abbiamo già ricevuto le prenotazioni per il mezzogiorno di ferragosto, certo se ci assiste anche il tempo riusciamo a fare una stagione che è stata una stagione ottima per quanto riguarda le prenotazioni, per dopo, l'ultimo periodo abbiamo avuto un calo di presenze ma molto probabilmente legato molto al carovita e questo un po' ci preoccupa perché dobbiamo affrontare la stagione autunnale, ma detto questo, per la categoria dei balneari non è solo quella ma è anche la questione legata alle elezioni e quindi il problema dei balneari deve stare all'interno del programma elettorale dei partiti perché noi siamo sempre incerti con questa famosa sentenza del Consiglio di Stato che ci tiene ancora sul filo del rasoio. Poi per quanto riguarda la programmazione per il 2023, già abbiamo avuto un incontro con l'assessore del giornale del turismo Daniele Damari che metteremo in piedi già nel mese di autunno, iniziative che portano anche a una rigenerazione urbana degli stabilimenti balneari, a innovazioni per quanto riguarda la ricettività, continuo a dire che sugli stabilimenti balneari va rivista la sua figura, non titolare, non solo un balneare ma centro turistico balneare che all'interno di esso ci sia anche un po' di ricettività. È una sfida che lanceremo alla regione Abruzza e ai comuni della costa abruzzese. Abbiamo avuto un calo di presenze ma molto veramente se avessimo avuto più alberghi, più strutture ricettive, campeggi eccetera sicuramente la crisi l'avremmo sentita di meno. Tornando alla stagione balneare siamo a metà agosto, voi ovviamente pensate di poter arrivare fino a metà settembre e tempo permettendo. Noi tempo permettendo quest'anno arriveremo forse fino alla fine di settembre perché come abbiamo detto, come abbiamo iniziato quest'anno che abbiamo aperto appena dopo Pasqua, noi pensiamo a destagionalizzare la stagione estiva cioè andare oltre il mese di agosto e fine settembre perché no, anche se ottobre è bello nei weekend siamo aperti con gli stabilimenti balneari. Noi invitiamo molto gli amici, i paesani abruzzesi ma anche gli amici romani. Roma è un'ora e mezza dalla costa abruzzese, ci sono le vie di comunicazione importanti, venite da noi perché trovate la qualità, i servizi e i prezzi molto veramente più bassi di tutta l'Italia. Siamo allo sport in questo weekend, il Pescara ha giocato una nuova amichevole in casa del Penne squadra che merita nel campionato di promozione. Vediamo il servizio. E Facundo Lescano, il protagonista principale del 6-0 che il Pescara rifila al Penne nell'amichevole giocata in terra vestina. L'attaccante argentino va a segno sul calcio di rigore dopo atterramento di Cancellotti. All'undicesimo raddoppia al ventiduesimo con una girata molto precisa e cale il trista all'ottavo della ripresa sfruttando il preciso traversone di Cancellotti. Lescano che indossa anche i panni dell'assistman al quarto d'ora della ripresa quando manda in gol l'ultimo acquisto, Colai, alla sua prima in biancazzurro e autore di alcune buone giocate nella prima mezz'ora. Poi tocca a Chiarella da calcio piazzato in rete nella sua penne. A chiudere i conti, Blanuta su invito di Germinario. L'ex Chisola, l'unico in campo per 90 minuti, Colombo tiene a riposo Bobben e Ingrosso e regala un'ora di partita agli altri centrali, Pellacani, Lanes e Veroli. Tutti gli altri giocano 75 minuti, Rizzari, Cancellotti, Milani, Meic, Daloia, Lescano, Chiarella e Colai prima di essere avvicendati. Tra 24 ore Pescara di nuovo in campo a Città Sant'Angelo contro l'Angolana con più spazio per chi ha giocato poco a penne. Intanto il presidente Sebastiani fa il punto su gironi e mercato. Credo onestamente che si potesse aspettare un paio di giorni prima di fare tutto perché visto che era stato annunciato il ricorso al Consiglio di Stato si poteva attendere un paio di giorni e magari si evitava di arrivare nel caos come siamo adesso. Però si è deciso così e adesso aspetteremo il 25 ed è chiaro che se dovessero rientrare le due escluse sarà un campionato a 62 squadre in Serie C e si dovranno rifare i gironi. La scelta del girone C potrebbe non essere definitiva per il Pescara? Io credo che non sia giusto che ci sia un girono a 22 così. Credo che sia giusto capire anche quale dei tre gironi deve essere a 22. Sul fronte mercato è evidente che la squadra vada rinforzata a centrocampo. Per numero dobbiamo fare almeno un paio di giocatori, quello sì, però non perché quelli che sono arrivati non sono all'altezza, quelli che sono arrivati sono bravi tutti e credo che quest'anno con questi ragazzi potremmo divertirci perché partiamo a fare i spenti con una squadra che è rinnovata per parecchio, anzi quasi per intero e quindi bisogna avere pazienza e bisogna avere il tempo per lavorare. La Teramo Calcio ha depositato venerdì mattina il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che aveva confermato l'esclusione del club dalla Serie C. Intanto sull'altro fronte Lorenzo Ponsuoli spiega il progetto della neonata SSD Città di Teramo, l'unica società che ha partecipato al bando del Comune, ex articolo 52,10 dell'Enoif, che si è chiuso nella mezzanotte di mercoledì. Vediamo. Sì, stiamo vedendo di approntare, cosa che già è stata fatta, oltretutto un progetto che a Teramo si è visto mai sostanzialmente, che anche nel calcio è un qualcosa che a volte se ne è parlato tanto, qualche squadra lo ha fatto e devo dire anche con grande successo. Il progetto sostanzialmente è quello di convolgere più persone locali possibile. Questo per più fattori, anche alla luce della storia che ha avuto il Teramo Calcio. Se consideriamo tutto quello che è stato, dove un padre padrone, vogliamo chiamarlo, che batte i pugni sul tavolo, ecco, noi non dobbiamo dare quell'immagine. Io personalmente non voglio caratterizzare così la presidenza. Deve essere un qualcosa di condiviso. Ha maggior ragione perché su Teramo il calcio ha un impatto sociale. Cosa che avviene è sempre così. Il calcio ha sempre un impatto sul sociale, ma in questa città particolarmente. Allora è anche giusto che i volti e le persone che ne fanno parte vengano da qua. Se no è facile. Vengono, fanno i danni e poi scappano. No, questa storia non è qualcosa che getta le basi per un futuro. Oggi paradossalmente abbiamo un'opportunità, che è quella di ripartire con una società libera da qualsiasi vincolo e da qualsiasi debito. E quindi da qui può partire veramente un grande percorso. Ora, noi abbiamo presentato i progetti, abbiamo presentato tutto quanto. Sono stati presentati due progetti, uno per la serie D e uno per l'eccellenza. Ci auguriamo, e abbiamo già oggi finito la riunione e siamo usciti con il budget pronti per affrontare la D. Detto questo, non è più nelle nostre mani. Partiamo a Zoppati sostanzialmente, quindi il tempo anche per organizzare tutto è veramente poco. Sapremo la categoria di riferimento intorno al 26. Il 31 si chiude il mercato. Abbiamo già reperito un buon 50% della squadra che sarà. Anche lì vediamo, insomma, l'allenatore lo stiamo, diciamo, vagliando varie opzioni. È entrato Marco Pomante poco fa insieme a Paolo Terco. È entrato Marco Pomante. Possiamo dire che lui è l'allenatore? Ancora no. Tutto del termine? Ok. Per il momento ancora non lo possiamo dire, ma è una notizia comunque sia la scelta dell'allenatore che arriverà subito dopo Ferragosto. Per il 16 già ci sarà qualche notizia. Mentre Paolo Terco è confermato come scelta per il ruolo di direttore sportivo? Paolo Terco è confermato. È tutto anche per questo appuntamento con il TG6 la settimana. Noi vi rimandiamo ai notiziari dei prossimi giorni per tenervi sempre aggiornati su quanto accade nella nostra regione. Buon proseguimento con i programmi di TV6. Buon proseguimento con i programmi di TV6. Io non ho la scelta la settimana cambia i programmi di TV6. Grazie.